Occorre accelerare per sperare in un piazzamento playoff. Una volta chiuso definitivamente se fosse stato mai aperto il discorso salvezza, ora a Lanciano i tifosi sognano di arrivare almeno all'ottavo posto, l'ultimo possibile per partecipare alla pool promozione. La classifica dice che l'obiettivo è ampiamente alla portata di una squadra che ha quattro lunghezze di ritardo dalla zona che conta. Un calendario non impossibile rende il sogno raggiungibile, ma bisognerà però ricominciare a vincere, possibilmente già dalla prossima sfida casalinga con il Latina, che però con l'ex Juventino Marc Iuliano in panchina sta andando di corsa. La Virtus Lanciano però sa bene che per arrivare al playoff dovrà fare soprattutto affidamento sulle partite casalinghe, sapendo che non ci saranno gare in discesa perché, eccezione fatta forse per il Varese ormai condannato, tutte le altre formazioni cadette hanno ancora i loro obiettivi da raggiungere. In casa Frentana il termometro volge al bello. Con il recupero degli infortunati, mister Roberto D'Aversa può sperare di alzare l'asticella. I nazionali Monachello e Cerri, dopo gli impegni con le rispettive squadre, torneranno a disposizione a tempo pieno. Solo Paghera e Turchi restano fuori con il centrocampista che però potrebbe recuperare prima del previsto. Il Lanciano per scalare posizioni di classifica si affiderà soprattutto le sue bocche da fuoco. Con Tiam, Monachello, Cerri, ma anche Grossi, Piccolo e Gatto, si cercherà di far male alla difesa avversaria, cercando poi di migliorare il rendimento di una difesa che incassa quest'anno qualche gol di troppo. Dopo la Pasqua in famiglia, i giocatori rossoneri torneranno ad allenarsi in terra frentana nel giorno di Pasquetta. Il Latine è avvisato, la Virtus vuole mettere la quarta. A proposito dei Pontini c'è da aggiungere che i Nerazzurri, dopo la gara del Biondi, che si disputerà l'11 aprile, torneranno in campo tre giorni dopo al Matusa di Frosinone, nell'infuocato derby con i Ciociari.